Buongiorno, sono Elisabetta Corzano, client marketing manager dell'Italia. Siamo qui per presentare i nuovi prodotti vostri che abbiamo lanciato nel mercato. Si tratta di un refresh tecnologico in base al lancio dei nuovi processori Sandy Bridge. Siamo qui per presentare le versioni che rispondono a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti delle piccole e medie aziende. Partiamo da un sistema 13 pollici ultra leggero e ultra compatto che risponde alle esigenze di mobilità estrema con un peso al di sotto dei 2 kg di 1.59 kg. In successione si passa alla nuova generazione, quindi al modello vostro 33.50 a 13 pollici, 34.50 a 14 pollici, 35.50 a 15 pollici, 37.50 a 17 pollici. Questo proprio per rispecchiare, per dare la possibilità ai clienti di scegliere e di preparare e di acquistare il modello che risponde alle proprie esigenze. Sono tutti lotati della nuova tecnologia, come dicevo, di Intel Sandy Bridge, quindi i3, i5, i7 e con possibilità di aggiungere performance grazie all'opzione di scheda video. Quindi abbiamo possibilità di aggiungere a scheda video 512 ATi per i 33.50, per i 34.50 a 35.50 una scheda video di 1 giga e sul vostro 37.50 con possibilità di una scheda video Nvidia GeForce. Tutti questi PC, logicamente rispetto a questi portati, rispetto all'esigenza dei nostri clienti, come dicevo, quindi sia a livello di performance sia a livello di soluzione grafica. Oltre a quello che è il rinnovo tecnologico e il posizionamento dei prodotti proprio per rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, è importante evidenziare quello che è il supporto di Dell e come seguire i nostri clienti in caso di problemi. Abbiamo che questi prodotti escono con un anno di garanzia con l'intervento del tecnico, il giorno dopo la chiamata, ma in opzione è possibile estendere la garanzia a tre anni. A tre anni sia Next Business Day con l'intervento del tecnico, il giorno dopo la chiamata, oppure con l'opzione di servizio che si chiama ProSupport. Qual è la differenza fondamentale? È che è un supporto di garanzia. Quindi il nostro supporto tecnico è disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24, con un numero dedicato e una risposta in meno di due minuti. È importante sottolineare che non soltanto la possibilità di accedere a tecnici qualificati che aiutano sia l'utilizzatore meno esperto o l'utilizzatore più esperto, ma è importante mettere avanti che si tratta di un supporto non solo hardware ma anche software. Quindi la possibilità di individuare e trovare la soluzione al problema e aiutare i clienti ad essere operativo il prima possibile. Una volta individuato il problema, il supporto tecnico apre l'intervento e interveniamo a Next Business Day, quindi il giorno dopo la chiamata con il pezzo con il tecnico on site.